Quanta emozione quest'oggi per questa nuova puntata di Perfette Sconosciute insieme a Gianna Alessandra Vedi perfetto, mi piace tanto perché vedi tu intervieni subito, dietro abbiamo un simbolo del PC, attenzione siamo dietro a uno spot originale del PC, avevo solo questo, era rimasto solo questo, lo spot originale del PC, esatto degli anni 80 quindi un momento anche sicuramente molto emozionale, no non lo so, negli anni 80 non eri, sei incinta negli anni 80, ma no c'era una signora incinta dietro, ah dietro c'era una signora incinta sì perché il PC parlava evidentemente a tutte le categorie sociali anche alle donne incinta quindi anche alle famiglie, allora cari amici vicini e lontani siamo qui per parlarvi di una nuova canzone prima di farlo voglio ricordarvi che questo è un canale a pagamento, paghiamo io e lei ah sì oggi sì, paghiamo io e lei ma ci possiamo rifare una vita soltanto se voi vi iscrivete a questo canale, se cliccate il campanellino per questo canale, se lasciate un mi piace a questo video, e Dio solo sa che dobbiamo rifarci una vita, quindi capisci, insomma è difficile, se voi non fate non è che dovete fare tante cose, cioè iscrivetevi, se due l'avete già fatto iscrivervi e avete cliccato il campanellino ve ne resta solo una che è lasciare il like, non è che mo, cioè non è che vi stiamo chiedendo ragazzi, siamo mica il PC che vi chiedeva di votare per loro, cioè noi chiediamo veramente un like e abbiamo risolto, allora, molte people like questa song, che io non conosco, no, perché altrimenti non sarebbe perfette sconosciute, sarebbe perfette conosciute, che bella quella canzone te la voglio far sentire, non è questa, ma faremo anche quella un giorno? non lo so, vediamo, vediamo, non lo so, al momento io non ti posso garantire niente, cara Gianna, allora, sono pronta? questa band, ho scoperto credo un minuto fa con te, si chiamano Giant Rooks, che è Rook in inglese? Rook, non è uno, tipo un rookie, un rookie è uno che è nuovo a qualcosa, un rook non lo so, sinceramente. Rook, traduzione, andiamo a vedere subito che cosa vuol dire, Rook, vediamo se c'ha ragione Gianna, vuol dire, Rook vuol dire torre, corvo, cornacchia, quindi corvo comune, oppure anche imbroglione, baro, truffatore, persona avida, quindi evidentemente Giant Rooks deve essere un gran truffatore, un po' come te che truffi la gente dicendo che di essere inglese non è vero. Ma no, io ho detto che rookie vuol dire una persona nuova, una persona che, certo, assolutamente. Però è bellissimo che hai letto te e spero che continui a leggere te perché è scritto così piccolo. Piccolissimo, io invece ancora ci vedo, non inganno la gente come fai tu che sei in realtà di Castellammare di Stabbia, diciamolo, possiamo confessarlo. Però, meno male che hai letto tu perché io avevo letto tutt'altra cosa. Però la cosa importante su questi Giant Rooks è che sono di Germania. Germania, tedeschi di Germania. Ma tedeschi proprio di Germania, sono pieni di crauti addosso, c'hanno veramente la senape che gli straborda dalle orecchie. Devo stare a venire una fame. Bravo, sai come farei un bratwurst in questo momento in piazza a Berlino come se non ci fosse un domani? Ma io pure un hamburger così. Certo. Ma pure un hamburger, guarda, me mangerei in questo momento qualsiasi cosa e con soprattutto della birra gelata. Attenzione, è il momento porno di Jane Alexander. Prego. I'm eating a hot dog. Cosa sta facendo Jane Alexander? Avete tre opzioni. Prego. Suona un'armonica a bocca. Chiaramente mangia uno dog. Oppure la terza opzione è la più importante. Affollate la sezione commenti chiaramente facendoci sapere che cosa sta facendo Jane Alexander. Sta piangendo in questo momento. Allora, voglio toglierti dall'imbarazzo di questo momento avidamente porno degno di pianista indie. Poteva essere corn on the cob anche. Sta mangiando anche una corn on the cob, una pannocchia. Un bel pannocchione si stava divorando la nostra Jane Alexander. C'ha fame. Esatto, anche quello lì è un appetito, si dice, che poi viene mangiando. Viene mangiando, esatto. Non a caso, dopo che lo fai la prima volta, poi Jane te trovi bene e lo rifai. Sta piangendo, smettila. Sta piangendo. È il momento di finirla, è il momento di partire con questa canzone che si chiama Wild Stare. Non wild thing, you make my heart sing. No, altrimenti sarebbe stata una corn invece un brano originale che, oppure poteva essere un brano di zucchero giustamente. Ma perché ce l'hai con zucchero? Non ti preoccupare. Va bene. E stranamente è la CIA che non ce l'ha con zucchero, che sia una cosa misteriosa. Allora, Wild Stare è un... Che è un po' quello che stavo facendo io, Wild Stare. No, quello non è wild, questo è molto più wild. Ah, quello è wild? Ed è stare. Stare perché ti devo fissare. Ti fisso, ti fisso in maniera selvaggia. Yes. Io non sono proprio buono a fare queste cose. Non ho gli anni di studio, per esempio tu, Wild Stefano Salavo, le persone che avete studiato. Elia, per esempio, è anche molto bravo in queste... Elia chi? Scherzo. No, Elia è molto bravo. Lui sa fare lo sguardo come nessuno mai. E infatti, vi ricordiamo, Muccino scrisse come nessuno mai per Elia. Ma Elia era troppo giovane ai tempi per poter partecipare. Allora, amici, con questa canzone... No, non è che con questa canzone chiudiamo, no. No, cominciamo a sentire questa canzone. Ci andiamo a sentire. Abbiamo trovato il lyric video, quindi il video già con il testo. Liricato. Come si chiama? Noi ci faremo Giant Rooks. La canzone si chiama... Ah no, ma ho sbagliato la canzone. Non l'ho mai trovata. Fermati, Gianna. Sto facendo un casino indegno, perché in realtà la canzone è questa qui. non c'è il lyric video, quindi dopo Jane, che ricordiamo... Notoniamente viene la stella a mare di Stabbia, vi farà la traduzione precisa di questa canzone. Quindi Giant Rooks, la canzone è Wild Stare. Noi ci tacciamo e ci facciamo piccoli, 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 ma attenzione perché il colpo di scena è partita. Cosa succede? Spesso parte la pubblicità, che dice poi saltano. Non c'è una cosa più... Ah, prego. Andiamo. Subito partita. Cosa succede? Perfetto Gianna che cosa mi vuoi dire? No perché se me lo ricordassi te l'avrei già detto Avrei interrotto la canzone Ma già anni prima Era proprio un ricordo totale È beccata? In quel momento di una cosa Quale? Non me lo ricordo Ah allora aiutateci nella sezione commenti Aiutate una povera persona con l'Alzheimer A ricordarsi delle cose perché non ce la fai No no però c'è proprio quando inizia A quel momento la ricorda tantissimo una roba Sì è vero Ma quale sarà questa roba? Allora non sono l'unica con l'Alzheimer No assolutamente ma se te l'hai ricordata a te A me non me l'hai ricordata a me Ricordo dei mondi musicali sicuramente No proprio una cosa Di quelle Ma di quelle di una volta o di quelle più recenti? Più recenti ti dirò Ricordano gli Imagine Dragons Ecco Eh? Vedi? Hai visto? Che volendo Che volendo perché tu sei bravo Io aspetto 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 Poi quando vedo che non ce l'hai fatta più Non ce la faccio no Però mi stavi dando un sacco di input Cioè nel senso ci sarei dovuta arrivare da sola Invece no E invece niente Sono arrivata però ti l'ho lasciato dire a te Anche voi ricordano l'Imagine Dragons? Tantissimo Dai ragazzi è proprio palese Tutto il mondo è palese Tutto il mondo è palese Andiamo avanti Andiamo a ascoltare Prego Ha detto Lele 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 E infatti si vede il palazzo Perché lo chiamano da sotto Guarda Ti faccio rivedere le play Perché lo chiamano da sotto Non sei Lele Lle I fade I mire Lele Nella I 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 Wherever we go, whenever we doubt, we're steady apart These winds ain't low, whenever we start, whenever we fall We're steady apart, wide step, the dust falls Time is seeking, praying for the fall to live For joy, for my trust, oh, I get higher Say bye-bye, say bye-bye E' arrivata la Germania nel video, non so se hai notato a partire da questa ragazza con questa frangetta Ma attenzione perché tedeschi sono anche lui e lui chiaramente tedeschi Vabbè, giustamente, non ho dovuto mettere E anche loro che si mettono, perché si mettono questi occhiali 3D? Gli occhiali, quelli da 3D, sì Dove sono i 3D? Non lo so, qui ne vedo due Quello aveva una banana e l'uva in mano Esatto, come nel mercante in fiera Wait for it Aspetta, aspetta, c'erano scritte Io odio quando ho visto un video e poi all'improvviso mi mettono un indizio e mi fa capire che non ci ho capito niente Sì, esatto, be patient, wait for it Che cosa ci hanno voluto comunicare? Ma perché c'è un significato in questo video? Be patient, wait for it, aspetta, wait Ma aspetta cosa? Se loro hanno indossato questi occhiali... Però sotto c'è scritto che devi essere paziente I've seen this part before Quelli di lui Sono 3D come i suoi però sono moderni Però da vista Sì, però sono moderni Sono graduati Ma questi piumini sono sponsor Sono bruttissimi Sì, ma sono sponsor, ce l'hanno tutti È finita ragazzone? È finita così? In maniera mesta? Cioè con un'ora di seguito inutile? Vabbè, noi torniamo al nostro caro PC Io non parlo Non parli proprio? A me non è piaciuto assolutamente nulla Ah, per niente Nella canzone, nel gruppo, nel cantante, nella voce, nell'accento, nel video, nei piumini, niente Proprio niente, non ci ho trovato niente di nuovo, niente di interessante Sicuramente questa non è una canzone che porterò via con me da qui Jane, ti avevamo lasciato di manica larga e ti abbiamo ritrovato veramente di una restrettezza Con una restrettezza incredibile Con quasi un'avarizia di voti Enrico, ti devo dire Scusa se te lo dico così, con questo tono così vero e sincero Però io credo che la musica è esattamente arte Quindi come tutta l'arte o ti piace o ti fa cagare Non può essere tedesca, diciamolo pure Non può essere chiaramente fatta in Germania Allora, loro mi sembrano O ti piace o ti fa cagare Sai che loro mi sembrano i maneskin tedeschi No, no, stai a... no, no, non l'accetto e me ne vado È una fan girl dei maneskin Assolutamente sì, sono una milf che ama i maneskin Come tante di noi Solo perché si chiama Damiano, dai, ammettilo Ma no, te prego, anzi, se mi fai pensare a sta cosa mi viene da vomitare Se si fosse chiamato Elia avresti detto altro No, Dio, no Vero? No, perché hai fatto dei persieri impuri, dillo Ah, sul cantante di maneskin, su Damiano di maneskin, tantissimi Tantissimi, e invece sul cantante di Chia Trucks Ma manco se mi paghi proprio, zero È il piumino che ti ha Pucci Off I piumini sono brutti Il video non ha senso No Ma non è che non ha senso, è un cerco d'essere artistico ma non ci riesco Ok Mi dispiace, sono proprio questa Sta andando tanto questa canzone, me la danno in cima a tante classi A te è piaciuta però No, io la trovo, allora, è chiaramente Orecchiabile, ascoltabile, la vorresti risentire? Non intenzionalmente, se mi capita però che la radio la mettono, fa Ah, è carina Però chiaramente non è, allora, è di buona fattura Credo che sia un pezzo piuttosto commerciale Di quel rocchettino alla Imagine Dragons Ma io ho la stessa reazione sull'Imagine Dragons Anche a me non piacciono tantissimo gli Imagine Dragons Ma se devo sentire qualcosa, sento loro e non sento questi che li ricobiano Certo, è chiaro, da questo punto di vista siamo pienamente d'accordo Però questa canzone nella sua, adesso non so quanti singoli ci regaleranno i Giant Trucks Io ovviamente auguro a questi Giant Crucks Visto che sono tedeschi, di Germania E quindi sono crucchi Gli auguro di pubblicare tantissimi singoli Di diventare estremamente famosi Magari anche di trovare una quadra artistica che sia un po' più originale Sì, esatto Non credo che sarà il caso e non credo che ne abbiano le possibilità e le capacità Ecco, questo mi viene da pensare Mi sembra che ci sia un limite, che sia un prodotto proprio che nasce così e morirà così Mi chiedo come mai sei uscito dalla Germania un prodotto così Questo non riesco a capire Salvini, come hai potuto far entrare una cosa del genere? Sono sicura che ci sono artisti tedeschi che sono più bravi di loro Siamo qui a chiederti, Salvini, del sovranismo anche quando si tratta di musica Soprattutto musica tedesca e te stanno sul cavolo Ma non è vero perché ci stanno tedeschi che sono stati molto falco Fal, è morto ed era austriaco Questa cosa ti ha fatto rosicare e l'ho mandata in bestia Quindi non se l'aspettavo Allora, amici Noi adesso siamo pronti a dare un voto Nel frattempo voi anticipateci Comunque tutto ciò col video del partito comunista Col matitone per lasciare il voto, capisci? Altro che broglie e colli Come se non fosse fatto apposta tutto questo No, 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 no Adesso è totalmente intenzionale Il famoso partito comunista di Germania Esatto Famosi loro per quelli Allora, amici Noi siamo pronti per dare il voto Però voi ci anticiperete E nella sezione commenti inizierete già a dare il vostro giudizio Approfondite, specificate Insomma, so che siete molto bravi in tutto questo Giana Allora, io il mio voto Mi smetto un minimo un 8 No, no Io come voto mi dispiace per i Giant Rooks Che come dici tu Per me sono Giant Rooks Sì, Giganteschi Crucchi Cinque Pensavo peggio Pensavo che ti scatenassi e che gli dessi tipo un quattro Volevo dargli un quattro a me Fia Quattro fia Come si dice quattro in croato? Cetri Eh? C'è Tiri C'è? Tiri? C'è Tiri Apri Vai che è arrivato Allora, io li do Invece Perché visto che questa canzone Invece secondo me è una canzone Che ha una sua piacevolezza Proprio come è piacevole Un'acqua minerale Né più né meno Ho capito Però ci sarà l'acqua che ti piace di più E quella che ti piace di meno No, c'è il Chinotto Il Chinotto mi piace di più Perché è gustoso No, l'acqua minerale Ci sta quella che preferisci È una Coca Zero Ringraziamo il Chinotto E la Coca Zero Perché ci sovvenzionano Ci danno fior fior di soldi Grazie Grazie E ce li danno più soldi Ci danno più like Voi ci mettete Ok? Esatto Se calano i like Noi non guadagniamo più niente Io gli do un Sette Come pezzo pop Come pezzo Pop derivativo Stracopiato Gli do un sette Se tu mi dici Nel contesto della storia della musica Quanto dà a questa canzone Gli do tre Cioè per me non la voto nemmeno Io sono stata gentile Gli ho dato cinque Tanto gentile Tanto onesta Pari No, ma comunque Se tu gli dai un sette Anche se l'hai Io non torno mai più Io do un sette nel contesto pop Io non torno mai più A fare questa cosa Quattro per me Allora è un quattro Anche per me Ve lo confermo Questa canzone Non mi è piaciuta per niente Voglio tirare chiaramente L'acqua L'acqua al mio carretto Come si usa In questi casi Con i buoi A cui non si guarda in bocca Grazie amici Per averci seguito Mettete un like Ovviamente riempite La nostra casella Iscrivetevi La casella è quella dei commenti Questa qua sotto Iscrivetevi Cliccate il campanellino Che ve lo dico a fare Poi se pensate Che c'ha ragione io Ditelo A me fa piacere Ditelo Perché sennò poi non mi torna Ok? Grazie Grazie mille Grazie Grazie Ciao 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 Vedi questa non me la ricordo Come fa? Questa è andata via così Come fa? Sì quella è proprio un'altra canzone Dai Ciao E parte così Parte per la tangente Per mille tangenti Meravigliosi Alla prossima La pacca è terribile 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 Questa è terribile